Non è molto difficile trovare in giro per il mondo i prodotti corretti da poter utilizzare per risolvere i problemi del nostro amato tappeto erboso. La cosa più difficile è quella di capire effettivamente le esigenze del tappeto erboso, ma le esigenze dei clienti. Questo secondo me ha fatto la differenza. La capacità del gruppo di questa azienda di metabolizzare le informazioni. Facciamo molti incontri formativi in Italia per poter alzare questa famosa asticella della conoscenza per poter soddisfare la passione. Ciao a tutti, benvenuti in questo video. Siamo presso un ufficio segreto, molto segreto non è, siamo presso la BOTOS, la BOTOS Sementi. Siamo venuti a fare un'intervista con una persona molto importante, la persona più importante di BOTOS. E tra un attimo ci arrivo. Io sono Fabio, Fabio Polo, responsabile tecnico di www.bestprato.com, un sito interne di consigli di prodotti per il prato e per il giardino. Oggi siamo venuti qua, anzi oggi sono venuto qua in BOTOS, perché avevo una grande curiosità di fare questo video, di fare questa intervista con Federico Consiglio. Se c'è qualcuno di voi che ancora non lo sa, Federico Consiglio è l'amministratore delegato, ma vedrete tra un attimo che è molto di più, della BOTOS. Grazie Federico di averci concesso questa intervista. Beh, grazie a te Fabio, sono tanti anni che mi chiedi di essere intervistato e come sanno tutti faccio sempre molta difficoltà a farmi intervistare. Siamo fortunati e ragazzi, direi di partire subito con la prima domanda. Personalmente ho conosciuto la BOTOS molto tempo fa, anche nel mio precedente lavoro interagivo con questa azienda. E c'è una cosa che mi ha veramente colpito da quando Federico ha preso in mano questa azienda. Un'azienda che credo, Federico, tu abbia preso in mano una ventina di anni fa. Ma ho iniziato una ventina di anni fa, credo che ho iniziato a fare l'amministratore delegato, se non ricordo male, nel 2003-2004 con alcune deleghe da parte degli azionisti. Dal 2008 invece mi sono preso tutte le deleghe della gestione, per esattezza, per essere precisi. Benissimo, dovete sapere che Besprato è nata nel 2013 come idea e quello che abbiamo visto, quello che io personalmente ho visto, Federico, è che da quando hai preso veramente le redini in mano, non solo della parte commerciale ma anche strategica, quindi della direzione progettuale, strategica, esecutiva di tutta l'azienda, di fatto sei l'amministratore delegato, questa azienda ha fatto una crescita veramente esponenziale. Secondo me la forza del nostro gruppo è quella che ognuno di noi ha un ruolo ben preciso, un ruolo ben preciso, un percorso di crescita aziendale ben preciso, con delle responsabilità ben precise. Diciamo che il mio ruolo è quello di gestire il ruolo degli altri, mettiamola così. L'azienda obiettivamente è cresciuta in maniera esponenziale e diventata di fatto una delle aziende leader dei prodotti per il tappeto erboso. Ovviamente il fatto di aver raggiunto questo tipo di obiettivi sicuramente dipende da qualche fattore. Io mi avrei detto che mi avresti fatto domande facili però. La domanda non è facilissima perché se avessi la risposta, devo dirti la verità, replicherei questo sistema all'infinito. La domanda non è facile e ci sono molte sfumature che possono portare a una risposta. Diciamo che il metodo e la costanza sono due degli aspetti su cui noi in azienda focalizziamo molto la nostra attenzione. L'ascolto, ascoltare il mercato, ascoltare i clienti, ascoltare dai privati ai giardinieri, ai manutentori campi da golf, ascoltare il mercato in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi target per poter dopo percepire effettivamente qual è l'esigenza. Fabio, non è molto difficile se si ha voglia, se si ha un ottimo management, non è molto difficile trovare in giro per il mondo dei prodotti corretti da poter utilizzare per risolvere i problemi del nostro amato tappeto erboso. La cosa più difficile è quella di capire effettivamente le esigenze del tappeto erboso, ma le esigenze dei clienti. L'esigenza dei clienti, questo secondo me ha fatto la differenza. La capacità, ma non mia, la capacità del gruppo di questa azienda di metabolizzare le informazioni. Federico ovviamente dice non sua, insomma, fidatevi di me che il suo zampino c'è ed è significativo. Però mi ricollego a queste tue considerazioni perché una cosa che mi ha sempre colpito quando vengo in azienda è per esigenze di lavoro. Vesprato è rivenditore ufficiale delle sementi dei concimi di Bottos, quando vengo qui trovo sempre un ambiente molto particolare. Cioè un ambiente che obiettivamente sembra quasi non lavorativo. Nel senso che le persone che sono in questo ambiente sono molto contente di lavorarci. Credo che attorno a questa soddisfazione delle persone che lavorano in Bottos ci sia anche un po' la chiave del successo di Bottos. La domanda è specifica. Secondo te quali sono i motivi per cui le persone che lavorano in Bottos hanno così voglia di lavorare in Bottos e di rimanere in Bottos? E' altra difficilissima domanda. Ognuno, ogni persona all'interno di questa azienda, ma ogni persona dal magazziniere all'operatore di vendita, a quella che gestisce la logistica, ha un percorso di crescita. Un percorso di crescita condiviso con il management, con un obiettivo. E con un cammino di formazione anche per il raggiungimento dell'obiettivo. Allora, per me questo è molto importante, perché la cosa più importante, secondo me, la cosa più importante, Fabio, fondamentalmente è quella di avere un obiettivo condiviso da tutto lo staff. Quando hai condiviso l'obiettivo da tutto lo staff, dopo diventa più facile. Ogni ruolo, in ogni ruolo, per ogni ruolo, scusa, devi costruire dopo un interno cammino di crescita. Io credo che tutti stiano bene, perché si vedono un walk in progress, no? Si vedono crescere all'interno di un progetto condiviso. Ed è per questo che ci divertiamo a farlo, ecco. Questo però, questo ci porta anche dopo ad avere parecchi scontri durante l'anno, scontri sulla scelta dei prodotti, sull'operatività di marketing, addirittura su come allestire uno stand in fiera. Questo credo sia normale in un gruppo, ecco. Il mio ruolo è quello di gestire. Benissimo. Sono stato chiaro? Perché mi incasino, non sono abituato. Negli ultimi anni Botos ci ha abituato a novità in continuo. Cioè, non so se è una strategia, però circa ogni due anni sfornate una serie di prodotti nuovi che sono veramente interessanti rispetto alle esigenze, tu l'hai chiamato, del mercato, ma in realtà le esigenze reali di quelli che sono i problemi che ci si trova a vivere nella gestione del tappeto erboso, nella gestione, io lo chiamo, del prato. E questo, ti dico, Federico, lo conosco molto bene, perché con tutti i video, le dirette che facciamo su YouTube ho il feedback di persone che hanno... Magari io, quando parlo di mercato, ho una visione più... La signora Maria. A noi interessa il problema della signora Maria. È un po', a me dispiace ripetermi un po', ma è un po' la chiave anche di molta proiettività di questa azienda, ma anche della comunicazione, del marketing. Cioè, noi dobbiamo capire che problemi ha la signora Maria per soddisfare, soddisfare l'esigenza di avere un bellissimo giardino dove far giocare i suoi nipoti, i suoi figli, il suo cane e le... dobbiamo veramente tentare di capire quali sono le sue esigenze, che vanno al di là, Fabio, del problema reale del cotico erboso. Che vanno al di là del problema reale del cotico erboso. Noi lavoriamo in diversi target, e dopo vengono i prodotti, ma fammelo dire questo, scusa. Noi lavoriamo in diversi target, nei campi da calcio, nei campi da golf, nei produttori di Prato Pronto, con la linea per i privati, con la linea per i giardinieri. In ogni target abbiamo una comunicazione diversa e molte volte ci sono anche prodotti diversi a seconda del target. No? Questo è chiaro. Perché? Perché ogni target ci chiede una soluzione ai suoi problemi. Dunque, la creazione di prodotti nuovi viene ascoltando le esigenze della signora Maria, nel tuo caso. Tu lavori quasi esclusivamente in quello che viene chiamato retail, ok? Sì, esclusivamente. Esclusivamente nel retail. Perfetto. Spiega ai nostri amici che stanno vedendo il video. Le fantastiche persone appassionate che hanno il giardino di casa loro. Ecco, questo è il retail. Noi amiamo questo target perché fondamentalmente è figlio di una parola che ci coinvolge tutti, passione. Ok, mi hai fatto prendere il filo. Figurati che rispetto alla politica dell'ascolto del tuo tag, della signora Maria, della persona che forse è la più appassionata del nostro settore, quella che ha il giardino, quella che lo vive, noi abbiamo una persona che di lavoro esclusivamente, colgo l'occasione per salutarlo Roberto Coim, che di lavoro esclusivamente risponde ai privati. privati. Noi riceviamo tantissime email di privati. Generalmente le aziende girano queste email ai loro distributori oppure addirittura non gli rispondono, devo dirti la verità. Noi già da qualche anno, credo un 3-4 anni o 5 anni, adesso non ricordo bene, abbiamo una persona che passa 8 ore al giorno, anche di più, molte volte anche di più, vedo delle email alle 10 di sera, passa molto tempo nell'arco della giornata a rispondere alle problematiche tecniche, ma no, all'esigenza del privato. Diciamo che molti prodotti sono venuti fuori leggendo le email che Roberto Coim mi gira. Oh, questa qua è una bellissima cosa, credo che ci sia poche volte, ho fatto diverse interviste Federico, ad aziende che lavorano nel settore, ovviamente non in questo specifico settore, però questo ascolto delle esigenze di quello che tu hai chiamato correttamente signora Maria, che poi per me è il vero appassionato, perché è una persona che desidera il prato, desidera il tappeto erboso per quello che il tappeto erboso rappresenta, cioè l'estetica, la bellezza, il biglietto da visita della casa. Allora, rimaniamo su questo filone dei prodotti e di sviluppo dei prodotti, perché sono fortemente interessato, siamo fortemente tutti interessati perché credo che mi piacerebbe sapere, se è possibile saperne, quali sono le visioni di nuove strategie di prodotto, ovviamente a noi di Besprato interessa per quanto riguarda, ormai abbiamo imparato a chiamarlo, questo mercato che è il retail, se siete voi che state vedendo questo video, se ci puoi dare qualche indicazione, dove stai portando a riflettere l'azienda. Perfetto, perfetto, perfetto. Dove stiamo riflettendo? Stiamo riflettendo. Allora, sicuramente stiamo, io ricordo, adesso faccio un po' l'imprenditore, che magari non era questo il momento, però io ricordo che le nostre riflessioni, tu le chiami riflessioni, io le chiamo investimenti. Ricordo questa cosa qua a costo di essere un po' cinico, scusami, però stiamo riflettendo su un approccio migliore ai prodotti naturali. Ok. Ok. Molto complesso, molto complesso, stiamo cercando materie prime anche oltreoceano, sia verso est che verso ovest e anche verso sud. Stiamo riflettendo, e questa è una riflessione che ho da anni anche, guarda ti do una news che non dovrei darti Fabio, stiamo riflettendo anche, stiamo riflettendo anche se ampliare la gamma di prodotti, dal tappeto erboso alle piante da giardino, perché no? Davanti a questa riflessione io mi fermo un po' una confessione, mi fermo sempre perché la nostra azienda è focalizzata specificatamente nel mondo del tappeto erboso, però queste riflessioni vengono. Stiamo riflettendo, stiamo riflettendo su tante cose, come ti dicevo, le nostre riflessioni non nascono dentro una camera, vengono a seconda delle informazioni che dopo metabolizziamo all'interno della camera. Bellissimo, veramente, bellissime parole e soprattutto bellissimi concetti, tra le altre cose alcuni messaggi, chiamiamoli così, alcuni desiderata del nostro pubblico, del pubblico di Besprato, ne abbiamo parlato diverse volte, soprattutto tutte quelle riflessioni attorno al packaging, che ovviamente la tua azienda è un'azienda focalizzata anche molto nel mercato business, per cui molte volte i sacchi sono grandi, no? Ci muoveremo, ci muoveremo, ci muoveremo a breve, questo te l'ho già promesso e mi hai fatto tra l'altro strappare una promessa in diretta, sei furbo. Molto bene. C'è una cosa ogni tanto quando penso al passato di Besprato e ci ripenso molto spesso che la vedo un po', cioè se ritornassi indietro nella storia di quello che è stato Besprato la farei in modo diverso e nel caso specifico sto pensando a quanto tardi come Besprato abbiamo proposto quello che io adesso chiamo un metodo Besprato, ma non è una cosa che ho inventato, che ho inventato io, ma è una strategia di approccio alla gestione più possibile naturale del prato e bla 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 che abbiamo messo in fila. Questo tipo di intuizione l'abbiamo avuta, l'ho avuta piuttosto tardi e mi sono mangiato le dita perché... Mi stai chiedendo una di quelle cose che non mi è venuta bene? Esattamente. Volevo sapere, la domanda... Ma non si può dire. No, anzi. Dai Fabio. Insomma, c'è un qualcosa che se tu... Sì, ogni giorno. Ogni giorno c'è qualcosa che non funziona. Siamo all'interno di un gruppo con personalità diverse, siamo all'interno di un'azienda con i fatturati, i pagamenti, c'è sempre qualcosa che vorresti andasse meglio. Posso però dirti che c'è quella cosa, il resto è tutto gestibile, no? È lavoro, no? È lavoro, passione, energia, c'è quella che non ho focalizzato bene. Che devo focalizzare meglio? È una linea di prodotti che ho all'interno del catalogo. C'è una linea di prodotti che ho all'interno del catalogo che è fantastica, e non so se te lo devo dire, che è fantastica a livello tecnico e... so di far ridere gli amici fotonica, a livello tecnico è fotonica, veramente è bellissima, prodotti di altissima qualità, non è stata centrata nella comunicazione e probabilmente nella completezza della gamma. Questa linea si chiama Natural Green. Ah, Natural Green. Non lo so, guarda, è una di quelle valutazioni, di quelle interrogazioni, che ci stiamo facendo negli ultimi periodi, ma non solo io e tutto lo staff. Quella non mi è voluta come avrei voluto venisse. Ed è bello anche, ed è bello anche che, ed è bello anche, ed è bello anche mettersi sempre noi, ed è bello anche che noi ci mettiamo sempre in discussione su quello che potrebbe essere una linea di prodotti o un prodotto stesso. Per il resto, devo dirti la verità, ogni prodotto, ogni creazione di un nuovo prodotto è figlio di un'attenta analisi, un'analisi di mercato, un'analisi di fattibilità di prezzo, un'analisi tecnica di prove in campo che dura più di due anni, a volte anche tre, un'analisi di packaging, di come è fatta la confezione. Tutti i prodotti nuovi sono stati costruiti dopo un'attenta analisi. Sono conosciuto per essere un po' un psicotico in queste cose, devo dire la verità e lo sai benissimo. Ok, Bottos è un'azienda che ovviamente raggiunge ogni parte d'Italia, ma la cultura del prato e la cultura del tappetto erboso non è equamente distribuita in tutta Italia. Volevo sapere, Bottos si sta muovendo in maniera particolare per arrivare in mercati magari un po' più difficili come sono il Sud Italia? Innanzitutto noi lavoriamo molto bene e con molta soddisfazione in Sud Italia e devo dire la verità in molti casi sono anche le regioni che ci seguono di più. Dopo volevo anche ricordarti, vedi come sono anche un po' vanitoso, volevo anche ricordarti che lavoriamo anche all'estero, noi abbiamo una capillare distribuzione in Austria, Svizzera, nel sud della Francia, in Slovenia, con ottimi amici, Croazia, Albania, Kosovo, Serbia, dunque lavoriamo anche in tutti i Balcani. Noi proviamo a comunicare molto, la formazione secondo noi è il segreto, è la soluzione, la formazione, l'informazione, la parola formazione è forse troppo grande. L'informazione è veramente il segreto per poter fare in modo che questa sticella di questo mercato si alzi, si alzi. È stato fantastico vedere che negli ultimi 5-6 anni il privato, partendo proprio dal privato, quello che tu rappresenti, il privato ha aumentato la sua competenza nel settore. È stato molto piacevole per noi. Io lo sai benissimo che seguo tutti con nomi falsi, seguo tutti i blog, tutti i gruppi, tutti i blog che parlano di Tappeto Orboso, le varie sessioni, i vari format, le varie riunioni online ed è molto bello vedere il privato che riconosce la malattia, il privato che sa cosa sono gli acidi umici e fulvici, fino a 5 anni fa era qualcosa di… Dunque, informazione, formazione e informazione. Noi continuiamo con sacrificio e investimento, continuiamo a credere che l'informazione e la formazione siano il cuore di questa azienda. Dunque, facciamo molti incontri formativi in Italia per poter alzare questa famosa asticella della conoscenza per poter soddisfare la passione. Beh, veramente direi che non possiamo che essere contenti di tutte le informazioni, Federico, e di tutte le cose che ci hai detto in questa intervista. Permettimi di chiudere in maniera anche un po' diciamo divertente, così vorrei farti un po' una domanda, ma oltre che dedicare tutta la tua vita, tutto il tuo tempo, tutta la tua intelligenza e emotività in questa meravigliosa azienda che è la Botos, Federico Consiglio ha anche delle passioni sue, ha anche un qualcosa che gli fa… Ma fondamentalmente, Fabio, la conosci benissimo perché ci conosciamo da 20 anni e sai benissimo che la mia privacy è qualcosa di sacro. Ogni qualvolta vengo toccato nella privacy veramente provo un po' di fastidio, un po' di fastidio, anche perché come hai detto bene all'inizio sono un po' avulso a queste forme di interazione, preferisco che i miei ottimi collaboratori facciano queste interviste e parlino dell'andamento aziendale. Posso dirti che amo molto viaggiare, io viaggio moltissimo, ho visto Mezzomondo, amo molto viaggiare, ho visto Mezzoriente, Mezzafrica, gli Stati Uniti, oltretutto molte volte viaggio anche per lavoro, ogni qualvolta viaggio per lavoro mi attacco sempre un paio di giorni per visitare il posto, sono anche fortunato, faccio un lavoro che mi porto a girare il mondo anche. Amo viaggiare, amo i quadri, amo quadri, sì sostanzialmente amo quadri, è uno dei miei più grossi vizi, ma lo sai benissimo. Dopodiché lavoro, lavoro. Amavo leggere una volta, come te, amavamo leggere, adesso leggiamo solamente cose di lavoro. Purtroppo, ahimè. Ti ricordi quando eravamo ragazzi e parlavamo dei romanzi che leggevamo, adesso leggiamo solamente cose di lavoro. Purtroppo sì, ahimè sì, però insomma ogni stagione… Posso farti io una domanda Fabio? Sono un terzo. So che sono fuori ruolo, completamente fuori ruolo quello che sto facendo, se la vediamo o sei, ma cosa ti piace fondamentalmente di Besparato? Perché io ho notato una cosa, ci conosciamo da tantissimi anni, tu mi conosci quando ero ragazzo, abbiamo fatto lavori diversi prima di questo, no? Io vengo dalle vendite, dal marketing, tu vieni da un mondo tecnico fondamentalmente, adesso siamo focalizzati in questo mondo e tutti e due ci caratterizza in maniera diversa, con ruoli diversi, a tutti e due ci caratterizza questa forte passione per quello che facciamo. Siamo quasi innamorati di questo mondo qua. E dato che io non so rispondermi molte volte, perché? Te lo chiedo a te. Ma ci ho pensato molte volte, onestamente… Taglieremo questa parte sicuramente. Sì, non è facile rispondere. Però io ho un ricordo di quando ero giovane e quindi tu l'hai ricordato bene quando leggevamo tanto e oltre che leggere a me piaceva molto scrivere, mi piaceva… Ho fatto una scuola tecnica, ma nella scuola tecnica le materie umanistiche mi piacevano moltissimo, mi piaceva sempre dei voti altissimi nei temi e quando con Besprato sono riuscito a unire un'idea di fare una divulgazione scientifica, perché io non mi ritengo un tecnico puro, non sono un agrotecnico, sono una persona molto appassionata di questi temi che ha trovato una modalità e un sistema per divulgare questo tipo di conoscenza. Probabilmente la chiave del successo di Besprato, se di successo ne posso parlare, probabilmente è questa. Federico, veramente grazie mille, è stato un piacere nostro, mio e di tutti noi di Besprato.